Ciao, oggi siamo qua a Montignoso nella provincia di Massacarrara a sostenere il nostro candidato a sindaco Paolo Lenzetti e a presentare un importante atto che abbiamo protocollato in regione toscana. Oggi parliamo di turismo, quando parliamo di turismo non possiamo non parlare dell'aeroporto del Cinquale che è un aeroporto strategico, l'aeroporto non si tocca, anzi si deve valorizzare, non possiamo non parlare del progetto del parco acquatico, benissimo che si faccia nelle colonie Torino a massa o nell'area eroportuale a Marina di Carrara, noi sposiamo pieno le osservazioni di federalberghi, tutte le associazioni di categoria che credono nel turismo, ma quando parliamo di turismo non possiamo non parlare del tema della qualità delle acque di balneazione. Ricordo che nel comune di Montignoso vige tutt'oggi, aggiornamento 16 maggio, un divieto permanente per motivi igienico-sanitari alla foce del Torrente Versiglia, ma tutta la situazione della Toscana Nord della costa Apoversigliese è completamente fuori controllo, Torrente Parminio, la Fossa Maestra, Porto Marina di Carrara, il Torrente Carione, la foce del Brugiano, la foce del Frigido, sono tutti i punti dove vige un divieto permanente per motivi igienico-sanitari. Ricordo tra l'altro che l'Europa ci sanziona a 480 milioni di euro all'anno fino a quando non verranno completate le opere, perché come è giusto che sia, pretende che anche l'acqua, la foce dei torrenti sia pulita. Oggi siamo qua con il nostro Paolo Inzetti che ha da dire tanto su questo tema. La valorizzazione del turismo è una delle priorità per il Movimento Ciocchi Stelle qua a Montignoso. Le azioni complementari da fare in questo senso andranno prese in sede considerazione. Per quanto riguarda la qualità delle acque rileviamo una responsabilità diretta da parte dell'amministrazione di chi ha amministrato Montignoso in questi anni. In quanto a Montignoso ci sono diverse strade che sono sprovviste del servizio di pubblica funzione, ma addirittura c'è un'intera frazione, che è quella di Vietina, che ne è sprovvista. È limitrofe questa frazione al torrente Pannosa. Basterebbe una canalizzazione delle acque, una recimazione delle acque del sistema fornario di Vietina per attuare anche un titolo depuratore a costo zero che rilascia acqua pulita al 94%, quindi acqua di ottima qualità nel torrente Pannosa. Qui a Montignoso abbiamo delle criticità riguardanti il magazzino di fiori. Abbiamo presentato un'interrogazione in Consiglio Comunale circa un mese fa riguardo una friglia la quale viene lavato in mezzi della raccolta dei rifiuti che scarica direttamente nel torrente Montignoso. Anche via Vietimonte, la zona circostante, è sprovvista di pubblica fognatura. Nel 2013 abbiamo presentato un esposto all'autorità giudiziaria e al corpo forestale dello Stato riguardo a delle discariche abusive disseminate nel territorio. Tutte discariche siete vicino a Corsi d'acqua. Nel 2014 e nel 2015 abbiamo presentato anche lì diverse interrogazioni di Consiglio sulle discariche in ausabondi provenienti dal torrente Tumba. Poi non dobbiamo meravigliarci se arrivano i divieti di palliazione che compromettono sicuramente la stagione per l'estate. In questi cinque anni è stato fatto poco, anzi niente è stato fatto. Se vediamo la fotografia e il totale mobilismo da parte di questa amministrazione sulle politiche ambientali, sulle politiche dei servizi che sono proprietari al turismo e anche ai posti di lavoro perché diciamo che è un buon turismo, il turismo è anche sinonimo di occupazione e rilancio del nostro territorio. Bene, quindi questo atto regionale noi chiediamo rispetto dell'accordo di programma che venne fatto qualche anno fa con la regione toscana e comune di Montignoso e soprattutto interventi per un puntuale monitoraggio e per sistemare l'annoso problema delle acque nere e delle acque bianche. Oggi i decoratori non sono più in grado di gestire questi flussi che vanno praticamente oltre i livelli previsti quando piove e ci sono fognature che si intrecciano a acque nere che entrano nelle acque bianche, quindi il decoratore è costretto a decorare quantitativi di acqua superiori e tutti questi costi maggiorati ce li troviamo nella bolletta di Gaia e quindi inese paghiamo. Sì, non solo il depuratore come abbiamo detto ma anche la mancanza di servizi al corredo della fognatura, poi dopo tutto va in mare, tutto va in mare quindi anche qui una cattiva fotografia, un cattivo biglietto da visita per il turismo che viene usato a molti costi. Grazie per la visione!